Musica Musica Questa mattina consegniamo alla città un nuovo servizio, quella della distribuzione di acqua naturale ed effervescente che aiuterà le famiglie più bisognose a servire di un servizio di acqua pura, di acqua genuina e soprattutto con un prezzo modico. Io non so quanto sia, mi pare che sia nell'ordine di 5 centesimi al litro per cui veramente con pochissimi soldi, pochissimi euro, i cittadini si potranno servire di una struttura che ha loro servizio. Mi auguro intanto che sappiano i miei concittadini rispettare soprattutto la macchina che è a loro disposizione Abbiamo solo esperienze positive a riguardo. Noi domani mattina... Poiché la sorgente in città è apprezzata dai cittadini. Però il San Marco sotto questo punto di vista apprezza molto ma è anche molto esuberante nelle manifestazioni di stupidità per cui mettiamo da parte la stupidità e tuteliamo un servizio che è veramente bello a favore della città. Volevo aggiungere solo una cosa, oltre al risparmio economico che non è da sottovalutare per il cittadino c'è un altro fattore molto importante, il risparmio ecologico. Una casetta dell'acqua eroga in media 1.500 litri al giorno, queste sono 1.000 bottiglie in meno di plastica in ogni discarica 360.000 bottiglie all'anno. Immaginiamo che per fare la plastica serve il petrolio, per trasportarla serve la benzina si producono circa 360.000 tonnellate di CO2 in meno, soltanto con una casetta dell'acqua in ogni città. Quindi è una bella cosa e ci auguriamo che abbia successo anche a San Marco in Lamis. Noi speriamo sempre attraverso la tua organizzazione di potermi mettere a installare qualche altro, magari in un'altra zona anche del paese, che mi pare una postazione un po' più giù per consentire anche alle persone anziane di potersi servire di qualcosa che riteniamo utile e soprattutto per quelle persone bisognevoli di aiuto in quest'anno. Anche il bilancio, nel bilancio di una famiglia, l'acqua minerale costituisce comunque un'uscita importante. 40 euro al mese, 40 euro al mese, una famiglia in meno, un bel risparmio. Allora a te tanti cari auguri, a parte dall'amministrazione comunale di San Marco. Grazie mille. Benvenuto qua, anche al papà. Grazie. Complimenti. Grazie.